Portiglie ufficiali del nostro Toro Club e a te il microfono per un saluto Io non capisco il tema, allora non so Ma capito Ma non ci vogliamo Ah, com'è? È un onore essere qua con voi che vi siete presentati in questo numero veramente una serata molto speciale per me perché sono anche prima settimana qua al Toro e sono molto molto onorato di indossare questa maglia qui e ti darò sempre tutto, sempre il massimo per accontentare soprattutto voi tifosi e dopo tutta l'altra gente E i bambini Bravo tutti